Più forte del maltempo, più forte del cambio data, più forte di un calendario troppo intenso per andare incontro alle esigenze di tutti. Il Valtellino Robie non ha tradito le attese e bastano i nomi che anche quest'anno hanno arricchito l'Albodoro per comprendere il valore di questo appuntamento organizzato dalla polisportiva Albosaggia. Gara che è stata il degno finale del circuito Coppa Alpi Centrali, anche con un percorso limitato dal maltempo. Michele Boscacci e il suo compagno di squadra nazionale Davide Magnini sono giunti insieme al traguardo, senza prendere troppi rischi, anche in vista del finale di stagione. Per loro un tempo finale di un'ora 12.21, che ha tenuto a debita a distanza il più giovane alfiere dell'esercito, Rocco Baldini, un'ora 16.37. Seguono, nell'ordine, Alessandro Rossi, Filippo Beccari, Gabriele Bardea, Riccardo Boscacci, Simone Murada, Matteo Corazza e Manuel Negroni. Nella prova femminile, Alba De Silvestro conferma il suo strepitoso stato di forma. Per lei un tempo finale di un'ora 15.35, che le ha permesso di primeggiare davanti all'altra campionessa di casa, Giulia Murada. Esercito anche sul gradino più basso del podio, con Giulia Compagnoni al quarto posto, Silvia Berra. Le categorie giovanili. Fra gli under 20, ne imporsi Eric Canovi e Caterina Cioccarelli. Nell'under 18, da segnalare il primo posto di Lorenzo Milesi e Olga Corti. Nell'under 16, vincono Alex Vavassori e Sofia Bortolotti. Negli under 14, l'hanno spuntata Simone Tomasoni e Caterina Carissimi. Infine, fra gli under 12, successo di Davide Milesi e Valeria Bellera.